devi dare la pascola attenzione potete il cancello sennò si perde quello poi quanta fretta ma dove corri dove vai se ci ascolti per un momento capirai lui è il gatto ed io la volpe stiamo in società di noi ti puoi fidare vuoi parlarci dei tuoi problemi dei tuoi guai i migliori in questo campo siamo noi è una ditta specializzata fai un contratto e vedrai che non ti perderai ma che ci prega ma che ci importa se lo stampino ci ha messo l'acqua e noi è vivo e noi è favo ci ha messo l'acqua e non ti pagano